Abbemus, presidente, il Campobasso scioglie il delicato nodo legato al rappresentante legale. Ora è ufficiale il numero uno del club rosso-blu e Raffaele De Francesco, presidente del consiglio di amministrazione della SRL Città di Campobasso. Completano il consiglio di amministrazione il vicepresidente Marco Gesuè, fratello dell'azionista di maggioranza Mario Gesuè, ed il consigliere Luigi Mandragora. Dati già riscontrabili in camera di commercio con apposita visura. La società rende noto inoltre che entro venerdì il passaggio di consegne da Circelli a De Francesco verrà ratificato anche in Lega. Solo successivamente il nuovo numero uno potrà vidimare i tesseramenti di Vanzan, Tenkorang e Zammarchi che si allenano con il gruppo ma al momento non sono a disposizione dell'allenatore Cudini. Saranno probabilmente dei giocatori del Campobasso sabato mattina, al massimo la prossima settimana. Si chiude dunque un passaggio delicatissimo della calda estate rosso-blu. Sui social esulta polemicamente Mario Gesuè. Finalmente è finita, solo chi ha la forza di scrivere la parola fine può scrivere la parola inizio. Una bugia e solo una bella storia che qualcuno rovina con la verità. Intanto la squadra vuole sbancare Avezzano per spazzare via ogni polemica. Non ci sarà lo squalificato Dalmazzi al suo posto Caffiero, elemento di spicco che lo staff tecnico ha voluto fortemente. Sull'altro fronte non ci sarà il grande ex Kevin Magri, pure lui alle prese con lo stop del giudice sportivo. Infine il mercato circola con insistenza. Il nome di Andrea Sivilla, un isanodoc in cerca di occupazione. L'area canatese non lo ha confermato e così potrebbero crearsi le condizioni per un clamoroso ritorno dell'attaccante. Nel 4-3 del mister mi trovo veramente bene. Poi cerco, ripeto, di fare il massimo e cerco di fare quello che mi chiede il mister. E stai cercando il golo con tutte le tue forze oggi anche in sforbiciato? Sì, anche perché non nego... Sì, anche perché non negoziare le condizioni per le tue forze oggi anche in sforzare le condizioni per le tue forze oggi.